ciao ragazzi guardate sono come il comico mi ricordo sono veramente incazzato adesso vi spiego il perché guardate voglio pubblicare un post di shadow ascensi sono riuscito a mettere le foto in fila non so per quale miracolo con la versione nuova di facebook come sto registrando bene registro bene allora sto vedete voglio pubblicare shadow assassins ok qual è il procedimento allora io voglio modificare io scrivo shadow guardate un attimo shadow assassins e basta e lo pubblico aggiorno vediamo un attimo dovrebbe essere questo qua il procedimento per scovare il bug non lo ricordo molto bene perché quando mi incazzo poi mi scordo tutto ok questo qua è la prima bozza della della cosa che ho pubblicato cos'è sta roba ok io voglio modificare le foto voglio modificare lo slide delle foto modifica tutti ok io voglio mettere questa qua shadow assassins come prima foto e l'ho messa e così è il layout che di solito utilizzo per le mie ok ok ha cambiato il layout ho cambiato lo slide perfetto ci siamo fin qua ok adesso vado a modificare la dicitura guardate è già tornato come prima se io faccio modifica il post guardate come prima foto mi da la schermata principale che volevo io vabbè sto lavorando col computer ma la bestia 2 è la stessa cosa è lo stesso software se io faccio modifica post già qua mi fa tornare le foto come prima shadow assassins adesso non mi ricordo tutto quanto bene no no thank you shadow assassins per psp aspettate eh se trovo la lo screenshot è meglio ah non nascondo nulla non c'è nulla da nascondere ubisoft 12 febbraio 2009 ok e questo quello che scrivo di solito vedete faccio le stesse cose ok pubblico e guardate è tornato come prima adesso ho messo a posto la dicitura ho messo a posto funziona bene adesso mi tocca rimettere a posto le foto e poi una volta che è fatto va bene funziona perfetto però come prova del 9 per esempio ho sbagliato a scrivere qualcosa qua una lettera in più o in meno io faccio modifica e mi torna come prima ma anche quel mona che ha progettato la versione nuova di facebook lo troverò quel deficiente prima o dopo dai ragazzi ci sentiamo dopo ciao ragazzi ciao ragazzi grazie 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 Grazie.